Insediata la Segreteria Provinciale del PSI Napoli alla guida dell'Avvocato Luigi Di Dato. L'evento, svoltosi ad ottobre scorso nella suggestiva cornice seicentesca di Villa Buonanno a Cercola, ha visto la partecipazione di militanti, simpatizzanti e sostenitori della cultura riformista dello storico Garofano Rosso nell'area Vesuviana. Abbiamo ascoltato nei nostri studi il segretario provinciale. Abbiamo fatto un grosso lavoro di, uso un termine, di riammagliamento, di riunione dei comuni della provincia di Napoli, comunque dell'area metropolitana di Napoli e per farlo abbiamo messo in campo tutte le nostre energie possibili a partire dai segretari di sezione che allo Stato sono già presenti in questo progetto politico che bisogna assolutamente ampliare. Abbiamo non solo varato la segreteria provinciale del partito, quindi gli organismi direttivi del partito, ma anche abbiamo affidato una serie di deleghe di alcune aree tematiche che rappresentano poi vari aspetti della vita quotidiana che interessa ovviamente i cittadini. Socialista da sempre, l'avvocato civilista è stato due volte sindaco del comune di Cercola e attualmente consigliere comunale. Una passione quella politica ed un credo quello socialista mai tradito negli anni ed oggi messo in campo per una sfida importante ed ambiziosa. La coerenza dovrebbe distinguere il comportamento degli uomini. Io non ho mai abbandonato il partito socialista fin dagli anni 80 e sono presenti in consiglio comunale con vari ruoli e li ho svolto un po' tutti. Abbiamo perso, come dire, nell'arco degli anni identità politica e abbiamo perso anche i valori della sinistra. Cosa a cui noi teniamo molto è che stiamo tentando di recuperare, quindi creare una fase di ascolto che è venuta meno nell'arco degli ultimi anni. Diversi punti programmatici sui quali si fonda e prosegue l'azione politica del PSI, di concerto con gli organi sovraterritoriali e mirata ad intercettare i bisogni della collettività. Stiamo portando avanti con il segretario nazionale, il quale gira in lungo e in largo la nazione. Argomenti che alla fine sono stati un po' tagliati fuori dal gergo della sinistra da un po' di venti. Non alla sanità esterna, noi ci battiamo affinché la sanità non solo venga rifinanziata ma che diventi invece pubblica. Scegli chi voti. Significa riportare l'eletto all'elettore e viceversa. Bisogna assolutamente rimodulare una legge elettorale ritornando alle preferenze, così come già esistono per esempio per gli antilocali. Il lavoro a giusta causa? Insomma, dobbiamo ritornare alla tutela del lavoratore e fare in modo che il lavoro stesso abbia tutte le tutele giuste, la transizione per il futuro. Parliamo comunque di quello che è il problema ad oggi più grave per la nostra continuità, quindi aria verde, la pulizia dell'ambiente, la pulizia dell'aria. Lo merito e questo riguarda invece gli studenti in particolare. Ci sono tanti palazzi, tante strutture dismesse e noi proponiamo di adottare, di utilizzare, di riprendere queste strutture affinché vengano facilitate le opportunità di studi per coloro i quali vengono da fuori regione oppure lontani dalle università. Ecco, parliamo di giovani sempre invocati, sempre esclusi. Quale ruolo lei ritiene si debba assegnare o veda da assegnarsi ai giovani in questa nuova stagione di rifioritura del PSI? Senza giovani non si va da nessuna parte, quindi bisogna tenerli in debita considerazione non solo, ma i giovani vanno anche, diciamo curati, ma nel senso di essere indirizzati verso la gestione della cosa pubblica e attraverso la gestione della cosa pubblica naturalmente ed è inserito anche nell'attività e nell'ambiente politico. Con tale spirito stiamo organizzando iniziative, manifestazioni, convegni e problematiche che riguardano soprattutto i giovani allo scopo di formare una nuova classe politica dirigente fatta da giovani di cui abbiamo estremo bisogno. Cambiamo argomento, obiettivi, progetti e scadenze. Quali le idee e quali i progetti che immagina di mettere in campo in vista dei due prossimi grandi appuntamenti elettorali in successione, le europee 2024 e le regionali 2025? Il problema per noi non sono le elezioni, nel senso che il nostro problema non è quello di inseguire le elezioni, ma è quello di essere comunque presenti nel tessuto sociale. Dobbiamo riappropriarci di uno spazio che ci è stato praticamente negato. Il Partito Socialista che governa in tutta Europa, in tutto il mondo, solo in Italia praticamente non governa. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi e un saluto a tutti gli spettatori di TV City. A presto.